Il primo, il primo che viene da me e mi dice guarda che questo è risultato positivo perché l'abbiamo recuperata, io giuro che lo banno istantaneamente. Anche oggi, altra dimostrazione, ennesima dimostrazione di quanto facciamo schifo! Tu non puoi, tu non puoi con lecce, non puoi andare sotto 2 a 0 in 23 minuti, tu non puoi! Dopo quello che ti è successo domenica, quando cazzo era domenica? Dopo quello che ti è successo mercoledì, dopo le 2465 parole, è stata la sfortuna e si dorme a Milanello e si fa di qui e si fa di là, te cosa fai? Te vai a Lecce e rifai la solita figura di merda! Per quelli che non mi vogliono credere, perché non mi credete mai, mai non mi credete mai, voi non volete mai vedere le cose come stanno, vi piace avere prosciutto davanti agli occhi? Con la Salernitana e ritiro fuori quella partita, perché la Salernitana è stata la prova del 9 che poi avremmo avuto una serie di partite di merda! Di partite di merda! Perché tu, Gianli, non riesci a fare più di due gol a partita! Hai un attaccante che chiede 9 milioni all'anno! 9 milioni! L'altro ha fatto 4 gol al Mondiale! È il miglior marcatore della Francia! L'altro lo sai per riscattare accidenti a voi a Real Madrid! Buttare accesso 20 milioni di euro per Brian Diaz! E nonostante tutto, non c'è testa! Non c'è testa! Perché tu oggi, Rigoni, potevi fare 4-5! E noi li hai fatti! Io posso capire il gol del 2-0 che è lì! Quanto saltano gli altri in aria, noi! Abbiamo un disabile di merda in porta! Perché in porta, raga, abbiamo un disabile del cazzo! Un disabile che ti fa prendere gol su gol! Perché con tutta franchezza, il gol del 2-0 non fa un cazzo! Altre tre occasioni per il Lecce! Manco si è buttato quello lì! Manco si è buttato! A portieri invertiti vincevamo 5-1! A portieri invertiti! E ci hanno Falcone quelli! Ci hanno Falcone! Non ci hanno Buffon! Non ci hanno Casillas! Non ci hanno Courtois, De Gea, no! Ci hanno Falcone! E ha parato meglio di Tatarusanu! E ha fatto due parate! È questo il paradosso! Che il portiere avversario gioca meglio del tuo facendo due parate! Due di numero! Due! Poi quando vedo Maldini lì che fa Ah no! La squadra è a posto! Non serve nessuno! Comincio dal portiere! E poi fai ruolo per ruolo A vedere dove sono i problemi! C'era alla destra quel Pegali che non pia una palla! Non struscia un cazzo! Non fa una sega! Quando parli di miracolati devi pensare a lui Perché non so come lui dopo tre anni giochi ancora nel Milan Ma si può vedere se le Mekers Che gioca nel Milan è un titolare fisso! È un titolare fisso! Cioè ma io rimpiango Cerci in che ruolo? Si impegnava di più! Era scarso ma si impegnava! So qua non fa un cazzo! So quasi che gli sms! Non fa un cazzo! Non fa un cazzo! Penopala di Tarnantes oggi la peggior partita da quando è al Milan La peggiore! La peggiore partita di Tarnantes da quando è a Milano! Sul primo gol Io un errore così non lo voglio più vedere Passaggio a due metri Ti fai portare via palla Gli errori così non li voglio più vedere Non li voglio più vedere Ma che cazzo vuol dire? Che cazzo è? Poi arriva quell'altro che se la butta in porta Intisabile Ovviamente vede le cose 10 secondi in ritardo Se l'hai buttato Avevano già battuto il calcio d'inizio Quindi che cazzo devi fare? Ma tu Io non ti voglio ricordare che partita c'è mercoledì Io non ti lo voglio ricordare Perché dovresti saperlo E purtroppo lo sappiamo anche noi che partita c'è mercoledì E te ci vai E te ci vai Con tre Gli ultimi cinque gol presi Su palla Aerea Di testa Di al fuolo quello che è Tu ci vai così con quell'errore che ha causato l'1-0 Te mercoledì Pigli 10 fischioni E torni a casa muto Muto torni a casa Te pioli mercoledì torni a casa muto E ripescate sto video Ripescatelo mercoledì sera Ripescatelo Perché te pioli Torni a casa bocca asciutta Che l'entra almeno Sarabatta ma le partite le porta a casa Giocano di merda ma le partite le portano a casa Guarda col Parma Hanno giocato di merda Ma hanno avuto i coglioni di vincerla Noi manco quelli Noi abbiamo fatto schifo Sono rimasti in 10 l'ora Abbiamo fatto ancora più schifo Hanno fatto ancora Abbiamo fatto ancora più schifo Dello schifo che già si faceva Questo è Questo è Questa è la realtà Questa è la realtà Ti ricordo che Io domani vado a comprare il pignetto per Lazio-Milan Mi costa 55 euro Dei soldi che ci vado a lavorare Perché vado a lavorare Per prendermi il pignetto per andare in tribuna E voi mi venite all'Olimpico per così? Mi venite all'Olimpico giocando così di merda? Ma io dalla tribuna scendo vi picchio tutti Vi prendo a schiaffi Vi prendo Vi prendo a schiaffi tutti E già andate all'Olimpico Tra una settimana e mezzo E voi? Voi cosa fate? Una settimana e mezzo prima mi pareggiate lecce 2-2 Ma non esiste mai! Non esiste mai! Mai! Queste sono partite che ti determinano la stagione Queste sono partite che poi in fondo dirai Mi mancano due punti lì Mi mancano tre punti là Mi mancano due punti su per il culo Perché sono quelle le partite E no! Non impariamo mai! La testa! La testa! Non è possibile che la squadra che si chiama Associazione Calcio Milan Non segni più di due gol a partita In una partita da Milan-Monza Da Milan-Monza! Quando è stata Milan-Monza? Andiamo a cercarlo! Andiamo a cercarlo! Milan-Monza 4-1! Era il giorno 22 ottobre! 22 ottobre! Ok è un mondiale di mezzo ma 22 ottobre! Non si segna più di due gol a una partita in campionato! Con lo Spezia ti va bene! Con la Ferentina ti va bene! Con il Verona ti va bene! Con la Solemnitana ti va di miracolo! Poi ti arriva la Roma te la mette nel culo Ti arriva il Lecce te la mette nel culo! Tant'è tanto la Roma ma il Lecce raga! 5 partite! 5 partite nel 2023! Salernitana! No! 4! Salernitana! Roma! Torino! E Lecce! Non mi avete fatto staccalmo! Una di queste 4 partite! Una di queste 4! Non mi avete fatto staccalmo! Manco una! Manco quella vita! Mi avete fatto staccalmo! Manco quella! Continuiamo! Oh no! Non c'è bisogno di nessuno! Una squadra è a posto così! Con un acquisto solo in estate! Vai a prendere un portiere in culo a Gesù! Che chissà mai se giocherà! Cioè il portiere di Tola Leter è rotto dal 29 settembre! Rientrerà come minimo a marzo! E te? No! Non c'è bisogno di nessuno! Non c'è bisogno di nessuno! Continua così! Che non c'è bisogno di nessuno!